Secondo tempo della sfida tra i ragazzi dei RedTube e lo Sporting Abusivo. Abbiamo visto adesso una discesa da parte dei ragazzi dei RedTube che stanno dominando nella sfida contro lo Sporting Abusivo. Vediamo al direttore di gara Ciro Apicella il punteggio. 3-0 per i RedTube. Squadra che quindi continua la scalata verso la vetta. Adesso arriva un tiro che termina sul fondo. Cambio! Longo chiede il cambio e lo tiene. Aspetta, aspetta! Aspetta, chi esce? No, no, detti aspetta che sta a cambio. Lungo rilancio del portiere. Trova Moscatello, perde il pallone però attenzione. C'è solissimo Longo, non mi è servito. E arriva il gol! 4-0. Longo totalmente ignorato però. Ancora devi segnare Longo. Ancora devi segnare. 4-0. Moscatello provava ad andare, ma è da culo. Pallo! Stiamo in avanti. L'uscita di Caizzi. È fermato. Laterale però a favore dei Red. Palla messa in avanti. Però a seguirla... Vai a battere Giliberti per Moscatello. Ancora Giliberti. Con calma la palla all'indietro. Sbaglia però in fase di impostazione lo Sporting. Lungo potrebbe anche calciare. Lungo messa in mezzo. Palla intercettata. Gittata lunga ma è sbagliato il lancio. Caizzi può dormire. Sogni tranquilli. A battere questa laterale è lungo. Vicino per Minopoli. La partita offerta. Non si inuncia mai. A me oggi vanno a detto. Per lungo. L'altro lungo. Perse il pallone. Occhio a Giliberti. Giliberti contro piede. L'uscita di Caizzi ma... Giliberti la mette sullo fondo. Battuta ci lo chiama il pallo. Chiama ci ha messo domani al... Non ha battito il portiere. Non ha battito il portiere. Angrisani. Si incaponisce. Occhio a Giliberti. Prova ad andare. Segue. Sogorsia di destra. Palla a cercare Moscatello. Persa. Lungo si impegna. La tiene in campo. Punta un uomo. Lo salta. Lungo sul destro. La parata del portiere. Che non riesce però ad evitare il calcio d'angolo. Seguiamo questa azione. Poi interrompiamo il nostro collegamento. Palla vicina. Giova da vicina. Poi persa. Ancora Minopoli. Lo mette e fallo. Interrompiamo qui il nostro collegamento. Angrisani. L'MVP. Una tripletta per lui quest'oggi contro lo Sporting abusivo. Allora una partita difficile? No, no, no. Per niente. No, è difficilissimo. Siamo divertiti. Sotto al sole. Senti, tre gol le potevi fare un po' di più. È stato un allenamento. È stato un allenamento. Non potremmo fare altri quattro, minimo. Mi dedico a tutti ad Antonio Longo che mi ha supportato. Poi un'altra cosa, questa maghetta fa schifo. Questo è vero. Non ce la leva. Non aveva fare il culo. Senti, sono un'ultima cosa. È un affascinale. Volevate segnare tutti quanti tanti i gol. Perché? Perché è facile. È facile. Adirittura. Va bene, grazie ragazzi. Abbiamo abbiato nove pali, è vero, è vero.